Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio sulle mod di Dragon Ball Xenoverse 2 quest'oggi vi porto Vegeta direttamente dal nuovo film di Dragon Ball Super Brawly in uscita a dicembre 2018 in Giappone allora come potete vederlo abbiamo il nostro carissimo Vegeta con una tuta da combattimento molto diversa dal solito in questo caso è nera questo Vegeta come tecniche ha il pugno selvaggio, il cannone galic, il lampo mirato, la carica massima e poi come tecniche definitive ha il lampo finale e il super cannone galic come mossa spezza attacco, spezza guardia ha la ritirata di espressione e poi ha le varie trasformazioni in Super Saiyan, Super Saiyan God e Super Saiyan Blue mi raccomando ragazzi ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio per continuare a sostenere la serie ed inoltre se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi per non perdere nessuno dei prossimi video e di attivare anche la campanella delle notifiche così ogni volta che pubblicherò un episodio di questo o delle altre serie che sto portando verrete subito avvertiti allora adesso dobbiamo provarlo in allenamento essendo un personaggio unico con più trasformazioni faremo un allenamento unico e faremo tre battaglie quindi andiamo subito a cominciare devo ancora scegliere quali personaggi affrontare con Vegeta devo sceglierne uno per il Super Saiyan, uno per il Super Saiyan God boh, uno per il Super Saiyan God ce l'ho già a dire il vero e uno per il Super Saiyan Blue allora come sempre togliamo tutto boh, il Munizel di Vegeta è quello ok però dobbiamo togliere anche l'aura mettiamola normale perché sennò non possiamo trasformarci allora pugno selvaggio allora facciamolo con il pugno selvaggio carino dai poi abbiamo il cannone gas e il lampo mirato ok, allora trasformiamoci in Super Saiyan devo dire che è veramente fichissimo complimenti al modder allora potrei utilizzare anzi no ok, cerchiamoci ancora un po', allora via col Super Saiyan God bellissimo e con lui volevo utilizzare il Super Cannone Galick è stato alto tantissima vita ora Caricamassa Super Saiyan ok vediamo una cosa un attimo no, ok, va bene siamo arrivati al capolino ok, dopo aver fatto sta roba possiamo andare a fare dei veri e propri combattimenti con il nostro carissimo Vegeta allora ora dobbiamo scegliere l'avversario per Vegeta Super Saiyan battaglia libera uno contro uno uno contro uno andiamo a selezionare Vegeta beh, potrei mettere Goku allora potrei mettere Goku così perché no e combattere cambiando ovviamente la musica combattiamo qui con le montagne dai in memoria dei vecchi tempi ok cominciamo bene è Goku Chimena di brutto oh ma è l'ora siamo riusciti a colpirlo ok si è già trasformato in Super Saiyan va bene buono ma va ho sbagliato ma va fai la tecnica ce l'abbiamo fatta ma no ma come ha fatto vediamo volevo farlo fuori col pugno selvaggio se è vero ma porca ora che qua recupera 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 o forse no hai rovinato tutto ok basta basta scherzare addio bene 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 e ok questo era Vegeta Super Saiyan la prossima battaglia ci vedrà impegnati molto di più almeno spero così così però mettiamo questa questo è lui qui ok eccoci qua via 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 no questa questa cimena vengo Super Saiyan per ora ok 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 Forse è ora di passare a livello successivo ragazzi Aia 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 La cosa non va molto bene Ok ora ci scateniamo No Oh le stiamo assuntendo tutte le botte Ma porca Ok No non ho più aura No Parisi black Spettacolo Ok adesso possiamo andare a fare l'ultima battaglia Che penso che sarà quella più difficile veramente stavolta Perché per l'occasione E anche perché visto che Anche perché Scusate mi sto incasinando Lo scorso episodio abbiamo parlato Broly del nuovo film Quindi ovviamente visto che abbiamo parlato Broly del nuovo film Oggi ho parlato Vegeta del nuovo film Dei Dragon Ball Super E abbiamo ancora la mod di Broly installata Quindi perché no Dopotutto Non ho il ghiacciaio Ok combattiamo Sulla piaggia Ok eccoci qua La grande battaglia Mi avverto Broly toglie un casino di vita Ok Ok Super Saiyan Come di questo Mi da un po' finiravola Perché è pieno Non lo so Cosa sta facendo Capriole Ah no Giravolti Scusate E ora Super Saiyan Blue Pensi di trasformarti Niente eh E dall'altra parte Ma va bene Wow Bravo Non so Non si è trasformato ragazzi Non so cosa dirvi Ciò che conta però E che vedi E da ne è uscito Vincitore Ok Benissimo ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando Ricordatevi Di lasciare Un bel like All'episodio Per continuare a sostenere la serie E inoltre Vi invito Se non siete ancora iscritti Al canale Ad iscrivervi Ad attivare la campanella Delle notifiche Per non perdere Nessuno dei prossimi video Mi raccomando ragazzi Ci conto Grazie ancora Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao ciao E grazie Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo